Continua la preparazione del Foggia in vista del prossimo campionato di Serie C. Dopo la sconfitta di misura contro il Catanzaro nella gara decisa dall'ex Curcio, la formazione rosso-nera sta continuando la preparazione ad Assisi, dove resterà fino all'11, prima di affrontare a Casal Bordino un test amichevole. Ancora da definire l'orario, mentre la data dovrebbe essere quella del 12 agosto. Sul fronte mercato continua la trattativa con il Catanzaro per portare in Puglia Riccardo Gatti, il calciatore classe 1997, a un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 con la società calabrese, ma avrebbe ricevuto anche un'offerta dell'Albino Leffe, che lo tenterebbe per farlo avvicinare a casa. Il sogno resta quello del ritorno di Alexis Ferrante, l'attaccante classe 1995 però ha anche stimatore in Serie B e riportarlo in Puglia alla corte di Cudini non sarà affatto semplice. A bloccare il mercato quattro esuberi, Vutai, Vacca, Auger e il portiere nobile. Al momento i quattro non hanno offerte di rilievo, ma potrebbero essere inseriti in uno scambio con altri calciatori.